Innanzitutto, come avete trascorso queste vacanze? Non avete mai staccato fondamentalmente la preparazione? Vi siete allenate regolarmente o comunque vi siete allenate in questo periodo? Cosa avete fatto? Siamo state ferme fino a inizio anno, abbiamo ripreso inizio anno e abbiamo ripreso con una specie di preparazione atletica di nuovo visti la settimana che siamo state ferme per rimetterci un po' in forma dopo le grandi mangiate di Natale dell'ultimo dell'anno. Fondamentalmente abbiamo fatto proprio una preparazione atletica in questa settimana. Preparazione atletica, avete anche provato qualcosa di nuovo o state migliorando quello che già di buono avete fatto finora? Abbiamo più che altro migliorato, mentre questa settimana cominceremo più a approfondire il discorso della prossima partita che sarà fra due settimane e cominceremo a lavorare più sul piano tattico che su quello fisico come abbiamo fatto invece fino adesso. Fondamentale sarà riaccendere la spina e rientrare con la testa giusta, con la voglia di andare in campo e giocare. Ricordiamo la prossima partita sarà il 17 gennaio prossimo qui in casa. Sì, infatti la prossima partita sarà di grande importanza perché comunque giochiamo contro una squadra che può essere benissimo alla nostra portata e quindi si spera anche che arriva prima o poi la prima vittoria e farlo davanti al pubblico amico è sempre una soddisfazione in più e sicuramente sarà un aiuto principalmente in più che ci daranno gli atleti e a tutta comunque sia la squadra. Senti, per quanto ti riguarda il 2014, un tuo piccolo resoconto di questo anno? Beh sicuramente è stato un anno pieno di soddisfazioni per il discorso ovviamente della promozione in A1 per il mio livello personale, per il rientro dopo l'operazione che ho avuto al ginocchio quindi dai diciamo che è stato positivo, peccato per l'inizio di questa A1 che è stato molto in salita però deve ancora finire il campionato e si spera sempre per il meglio. Propositi per il 2015? Speriamo, allora prima di tutto rimane la salvezza il primo obiettivo speriamo di raggiungerla e dopo vedremo l'anno prossimo cosa succederà.